Aveva ridotto così la caserma dei carabinieri di Pergine Valdarno in provincia di Arezzo, ma adesso è stato incastrato. Nella notte è stato arrestato un diciottenne con l'accusa di essere l'esecutore materiale dell'attentato contro la stazione dell'arma, avvenuto nella notte tra il 6 ed il 7 gennaio scorsi. Il lancio di una bomba Moltov causò l'incendio di un'auto di servizio e danni alla facciata della caserma. Secondo quanto spiegato dagli stessi carabinieri che hanno condotto le indagini, le motivazioni dell'azione sarebbero riconducibili al forte risentimento che il ragazzo avrebbe avuto nei confronti dell'arma, in particolare proprio dei militari di Pergine, perché lo avrebbero denunciato più volte per atti di teppismo commessi fin da quando era minorenne. Durante le indagini è stato accertato che il diciottenne poche ore prima dell'attentato aveva effettuato un sopralluogo per eludere il sistema di videosurveglianza e scegliere il punto migliore dove lanciare la bottiglia incendiaria e dove posizionarsi. Secondo i militari, per rendere meno sospetto il suo sopralluogo avrebbe anche fatto una lunga chiamata con il cellulare ad una società telefonica, così da dare meno nell'occhio mentre passava vicino alla stazione per osservare con più attenzione delle telecamere. Il moto poi era andato ad un distributore privo di videosurveglianza riempendo una piccola tannica di benzina. Dalle intercettazioni sarebbero arrivati ulteriori elementi per l'accusa. Gli investigatori hanno riferito che i familiari delle diciottenne, avendo capito che era coinvolto, avrebbero adottato una strategia di reticenze o disviamenti volta a tutelarlo. Il ragazzo avrebbe confessato a conoscenti di famiglia le proprie responsabilità. Da allora i parenti avrebbero manifestato di continuo il timore che i conoscenti potessero raccontare agli inquirenti quanto accaduto le responsabilità del ragazzo e potesse emergere da intercettazioni compromettenti di alcune conversazioni fatte in famiglia.